Lutto significativo nella trasmissione signori di Sigfrido Ranucci e proprio il giornalista e conduttore ed è lui stesso a dare e purtroppo il triste annuncio. Una triste notizia, accompagnata da una foto e un lungo messaggio di addio, che in poche ore ha raccolto moltissimi messaggi di condoglianze e cordoglio da parte dei suoi fan. Il post è stato pubblicato nella giornata di lunedì 7 agosto 2023. Si è trattato di una morte improvvisa, spiega il padrone di casa del programma di inchiesta di Rai 3 che nel prossimo autunno si sposterà alla domenica sera, al posto di che tempo che fa di Fabio Fazio. Tornando al lutto nella redazione di Report, è Salvatore Foresti, tecnico della trasmissione che il giornalista Sigfrido Ranucci ha voluto ricordare attraverso le sue pagine social. È stato colpito da una morte improvvisa, come anticipavamo e come sottolinea lo stesso conduttore nel messaggio che ne dà notizia. È scomparso il mio microfonista Salvatore Foresti. Un professionista competente, delicato, sempre disponibile, si legge. Come tanti in Rai che rappresentano la forza tenace e silenziosa di quest'azienda, sottolinea Sigfrido Ranucci, una morte improvvisa che l'ha colpito di notte mentre era su un autobus di rientro a casa. Gli mancavano pochi mesi alla pensione. Aveva risparmiato per una vita per tornare nella sua Africa. Quindi la conclusione, la squadra di Report si unisce al dolore dei colleghi e della famiglia. A lui il mio grande abbraccio. Il conduttore di Report pubblica anche la foto del tecnico della trasmissione di cui però non si hanno informazioni come per esempio l'età. Numerosi i commenti di Cordoglio da parte del pubblico di Report al post di Sigfrido Ranucci, che riprenderà il suo posto a ottobre prossimo con una nuova serie di inchieste. La partenza, secondo quanto risultati tvblog, sarebbe fissata per domenica 8 ottobre. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.